Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la pagina politica perché c'è stata oggi la prima riunione dell'anno del Consiglio regionale. Congelato il rimpasto di giunta, le opposizioni hanno chiesto al presidente Donato Toma di riferire in aula su quanto stia accadendo nelle ultime settimane in maggioranza. Poi l'aula ha approvato all'unanimità una mozione di Aida Romagnuolo sui problemi che affrontano i comuni colpiti dal terremoto di agosto del 2018. È passato un anno e mezzo ma il governo ancora non nomina il commissario che deve gestire la fase post sisma. E allora sentiamo in apertura Enzo Luongo. La giunta resta così com'è, Toma per ora non cambia nulla e dunque viene congelato quel rimpasto più volte annunciato durante il periodo delle feste. La maggioranza sembra aver recuperato pezzi, ora va alla prova dell'aula per vedere se è solo una tregua o se invece la coalizione ne tiene seppure di misura. Nel primo consiglio dell'anno stamattina però le opposizioni hanno auspicato chiarezza su quanto accaduto nelle ultime settimane nel centrodestra. Sia il PD che il Movimento 5 Stelle in apertura di seduta hanno chiesto al governatore Toma di riferire in aula sulla situazione politica che loro hanno lamentato, hanno appreso solo dalla stampa. Per il resto i lavori del consiglio sono stati caratterizzati da un voto all'unanimità che è arrivato su una mozione presentata da Aida Romagnolo in merito al terremoto di Ferragosto del 2018. È passato un anno e mezzo da quell'evento che ha danneggiato le case di centinaia di famiglie ma il governo ancora non nomina il commissario che deve gestire la fase post-sisma. Il presidente della regione in aula ha detto di aver sollecitato Palazzo Chigi prima di Natale affinché la nomina venga effettuata al più presto. Altri consiglieri hanno definito gravissimo il ritardo su questa decisione da parte del governo centrale. Una situazione incrociosa mentre proprio nei giorni scorsi è stato prolungato lo stato di emergenza per le zone colpite dal sisma fino al prossimo settembre. La mozione della Romagnolo approvata dall'Aula con il Sì di maggioranza e opposizione riguarda in particolare i problemi che stanno affrontando gli uffici tecnici dei comuni colpiti dal terremoto con in testa Monte Cilfone, Palata, Acquaviva, Montemitro e Guglionesi ma la lista è molto più lunga. Uffici che si trovano a dover fronteggiare con poco personale un enorme quantitativo di lavoro extra per le istruttorie e gli iter legati agli interventi di ripristino degli edifici danneggiati. La mozione impegna il presidente della regione ad adottare iniziative per garantire la possibilità di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato personale tecnico da destinare allo svolgimento delle attività legate alla ricostruzione. E sempre il Consiglio regionale in riunione oggi ha poi approvato all'unanimità una mozione del Movimento 5 Stelle che affronta il fenomeno del randagismo prevedendo una serie di interventi mirati e lo stanziamento di risorse adeguate. Sempre nel corso dei lavori sono state approvate un'altra mozione e un emendamento a firma dei consiglieri Calenda e Scarabeo che prevede incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono per i bambini fino a 4 anni d'età e ce ne parla Anna Maria Di Matteo. In Molise ci sono circa 25.000 cani randaggi. Circa 2.000 sono quelli che invece si trovano all'interno dei canili regionali ed extra regionali e per i quali la spesa si aggira sui 2 milioni di euro all'anno. Tuttavia nell'ultimo piano di prevenzione 2013-2015 è stata preventivata in bilancio una spesa di circa 1.200.000 euro ma soltanto 400.000 euro sembrano essere stati effettivamente destinati allo scopo. Il randagismo resta dunque un problema che va affrontato in maniera più incisiva. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione del Movimento 5 Stelle che ridisegna il sistema che contrasta il fenomeno e potenzia tutti gli strumenti a tutela degli animali. Il provvedimento licenziato da Palazzo Daimmo prevede una serie di interventi che vanno dal rinnovo del piano triennale di prevenzione con risorse adeguate all'istituzione di un pronto soccorso veterinario, all'unità operativa per la lotta al randagismo. Previsto anche un sistema di sorveglianza attiva sul territorio attraverso un geodatabase, il controllo delle nascite e campagne di sterilizzazione che coinvolgeranno anche le strutture private. La mozione di 5 Stelle prevede inoltre interventi per una corretta gestione dei canili e delle adozioni, il potenziamento della vigilanza con il coinvolgimento dei medici veterinari pubblici e privati e un servizio di sterilizzazione con attrezzature idonee. Una sorta di riforma che è frutto di mesi di lavoro che ha visto il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e degli operatori del settore. E sempre il Consiglio regionale ha dato il via libera all'unanimità ad un'altra mozione e un emendamento a firma congiunta dei consiglieri Calenda e Scarabeo per reperire i contributi in favore delle famiglie molisane che acquistano i seggiolini con dispositivo antiabbandono per i bambini fino a 4 anni di età. La spesa stimata è per il 2019 di 60.000 euro che dovrà trovare copertura nel bilancio di previsione 2020-2021. Nelle ultime settimane e negli ultimi giorni abbiamo assistito all'intensificarsi di un fenomeno che sin dall'inizio ha caratterizzato la maggioranza al governo della regione. Discussioni che concernono solo poltrone tattiche e giochi di potere. Lo ha detto in una nota il dirigente regionale del Partito Democratico e presidente di partecipazione democratica Stefano Buono, secondo il quale se questa deve essere la massima espressione politica forse sarebbe auspicabile una riforma istituzionale che consenta la configurazione di macro regioni e la fusione del Molise in una di queste. Tom ha poi in aula oggi e ha ribadito che non c'è alcuna ipotesi di rimpasto all'orizzonte, almeno nell'immediato. Andiamo a Venafro e parliamo dello stop al traffico perché non basta, è importante che il sindaco ci faccia conoscere se saranno o meno in funzione anche gli impianti industriali nei centri vicini. A chiederlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola intanto da Isernia il Partito Comunista dei Lavoratori chiede di destinare i fondi dell'8-0 alla realizzazione della Bratella di Cepagna. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Da domani e per una settimana a Venafro sarà dunque in vigore l'ordinanza di stop al traffico resa necessaria dopo le preoccupazioni suscitate dai dati registrati dalla centralina dell'ARPA durante le feste con sforamenti record dei livelli di polveri sottili e particolato fine. Ma questo, ha detto il sindaco Alfredo Ricci, non diventi la classica foglia di fico per coprire altri problemi. Dello stesso avviso il consigliere regionale Vittorio Nola che su Facebook scrive «Mi attendo che da martedì prossimo il primo cittadino di Venafro, in qualità di autorità di protezione civile, faccia conoscere ai cittadini del territorio se dal 14 al 20 gennaio siano o meno in funzione gli impianti industriali della Colacem a Sesto Campano, di Aere Ambiente a Pozzilli e di Acea Ambiente a San Vittore». Nel frattempo l'esponente del Movimento 5 Stelle resta in attesa di una risposta dalla Prefettura di Sernia sulla sua richiesta di convocazione di un tavolo tecnico per affrontare in maniera strutturale il delicato problema dell'inquinamento che si registra da tempo nella piana di Venafro. Intanto anche Tiziano Di Clemente, del Partito Comunista dei Lavoratori, interviene sulla questione inquinamento e rilancia l'ipotesi della realizzazione della bretella di Cepagna usando i fondi previsti per il lotto zero della Esernia Castel di Sangro. A suo avviso è il caso di mobilitarsi per far sì che Anas e Regione si attivino per spostare i finanziamenti da un'opera ritenuta inutile e dannosa a favore del progetto che permetterebbe di deviare da Venafro il traffico diretto a Roma. Con indubbi benefici conclude per l'ambiente e l'occupazione nel settore edile. Parliamo ora di sanità perché a partire dal 15 gennaio chiunque abbia prenotato una prestazione specialistica in un ambulatorio dell'azienda sanitaria regionale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'orario fissati dovrà disdire la prenotazione almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata. Lo rende noto la Asrem. In caso contrario bisognerà pagare il costo del ticket. La sanzione per mancata disdetta riguarda tutti gli utenti compresi quelli esenti per reddito, età, patologia o invalidità. E sulla sanità pubblica il SOA, cioè il sindacato degli operai autoorganizzati, ha inviato una nota alla Asrem chiedendo un incontro alla Regione per parlare dei disservizi che continuano a Larino e a Termoli a provocare grandi disagi ai pazienti e problemi anche al personale. Il sindacato ha sollecitato la Regione a potenziare il personale e ripristinare il servizio della Camera Iperbarica, nonché alcuni laboratori di analisi dopo la manifestazione a Roma. Ha detto il sindacato SOA continueremo a mantenere alta la guardia per il diritto alla salute preannunciando da subito altre iniziative di lotta e protesta anche territoriali. E parliamo ora della capitale della cultura italiana perché è stato pubblicato dal Comune di Sernia il bando per presentare le proposte o i progetti che dovranno accompagnare la domanda dell'amministrazione cittadina al Ministero dei beni culturali proprio per partecipare alla selezione per l'individuazione della capitale della cultura italiana. Per il 2021 ce ne parla Enzo Di Gaetano. Isernia, capitale italiana della cultura 2021, porte aperte a tutte le idee e a tutte le proposte. Sul suo sito il Comune ha pubblicato un avviso con il quale apre alle migliori idee in vista della presentazione del dossier di candidatura da inviare al Ministero dei beni culturali entro il prossimo 3 marzo. Nel dossier, come possibile leggere sul bando del Comune, bisognerà inserire le migliori proposte che rafforzino l'offerta culturale, la coesione e l'inclusione sociale, lo sviluppo della partecipazione pubblica e gli attrattori culturali per lo sviluppo dei flussi turistici. Spazio tuttavia anche alle idee che puntino al conseguimento di risultati nell'ambito dell'innovazione culturale e che perseguono la sostenibilità, così come indicato dall'Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Il Comune di Isernia intende così coinvolgere la città ai più vari livelli nella fase di programmazione e progettazione delle attività, tanto negli ambiti tradizionali quando in quelli più sperimentali. L'avviso si rivolge perciò sia persone fisiche non svolgenti attività di impresa o professionale che abbiano compiuto la maggiorità agli operatori economici, ai consorzi, ai liberi professionisti, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti del terzo settore. Gli interessati dovranno far pervenire a Palazzo San Francesco le proprie proposte entro il 10 febbraio, a valutarle una doppia commissione, una di natura tecnica, composta da esperti del settore, che verrà nominata dal sindaco d'Apollonio, e un tavolo di partecipazione convocato attraverso avviso pubblico, aperto informalmente a tutti gli interessati. Su ciascuna proposta si raccoglieranno due voti in termini di idoneità, inidoneità del progetto presentato. Uno sarà espresso dalla commissione tecnica e uno dal tavolo. I progetti ritenuti idonei saranno considerati ai fini dell'inclusione nel dossier di candidatura. Ricercato in Abruzzo un quarantenne straniero, ma residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Termoli perché a suo carico pendeva una condanna per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e furto aggravato. L'uomo dichiarato in arresto è stato poi associato al carcere di Larino. Cambiamo argomento. E' ancora irrisolto il problema delle dieci comunità montane e molisane, in attesa di essere liquidate da quattro commissari e per le quali si è mossa. Qualche settimana fa anche la trasmissione satirica di Canale 5 striscia la notizia. I tempi e i luoghi della liquidazione, ha spiegato in passato il governatore Toma, sono lunghi per una serie di cause da smaltire con i dirigenti e con le ditte che le comunità montane hanno a carico beni da gestire. Intanto però la regione a ottobre ha stanziato altri due milioni di euro per gli enti che sono ancora aperti in regione. E ora andiamo a Termoli perché ci sono novità al porto dove sono quasi finiti i lavori che entro la fine di questo mese consentiranno la riapertura della strada principale di accesso alla banchina. Pesanti i disagi per il commercio e il turismo a causa proprio della chiusura del collegamento che dura ormai da quasi due anni. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Un intervento straordinario atteso da quasi due anni al porto di Termoli in una zona strategica per l'economia del territorio con gravi disagi per tutto il settore. Solo una strada per raggiungere la banchina passeggeri e gli altri spazi dopo la chiusura avvenuta a inizio 2018 del collegamento principale. La causa è l'erosione provocata dall'acqua del mare che ha creato dei dissesti nell'asfalto e altre crepe al ridosso del molo nord-est e della scogliera tanto da portare a sbarrare il transito per motivi di sicurezza. I lavori effettuati dalla società specializzata in mare in fase avanzata consentiranno di ripristinare la viabilità ordinaria e di gestire i servizi come pullman e altre esigenze commerciali e turistiche. Daniele Marinucci della società in mare. Questi importanti lavori sono stati suddivisi in due fasi. La prima fase è la ricarica delle scogliere esterne che hanno ceduto. La seconda fase sarà l'apertura dei buchi che si sono venuti a creare con questi soffioni e si riempirà con misto cementato e si ricostruirà il manto stradale. La prima fase possiamo dire in sostanza è stata completata? Se tutto va bene oggi finiamo la prima fase della scogliera, degli scogliere. Sono diversi i disagi creati proprio a causa di questa chiusura della strada, vero? Eh sì, perché per circa due anni, non mi vorrei sbagliare, è stata interdetta il passaggio su quella strada e giustamente con i collegamenti all'Isola dei Tremiti, i pullman, i carichi pesanti, c'è stato un po' di ingolgo nelle zone del bar. Il progetto per la sistemazione della strada e della scogliera è stato approvato dalla regione con un finanziamento di 220 mila euro. Lavori straordinari sollecitati e più riprese dalla Capitaneria e dagli stessi operatori che rappresentano una condizione di base per qualsiasi progetto di sviluppo turistico commerciale del porto di Termoli, di recente interessato anche dai necessari lavori di dragaggio. Quindi una volta completati i lavori ci sarà un beneficio generale per tutto il settore, dal commercio al turismo? Sicuramente perché riaperta la strada ci sarà più passaggio, più fluidità nel passaggio dei camion, dei pullman, meno traffico, meno ingorghi, tutto così. Si può ipotizzare una fine lavori? Sì, io penso 15 giorni e tutto finito, tutto riaperto. Cede la strada in pieno centro a Monte Cilfone a causa della rottura della rete dell'acqua. La zona del lavoragine è stata transennata e il sindaco Giorgio Manes ha chiesto un intervento urgente alla protezione civile e regionale. I lavori sono necessari per ripristinare la viabilità ed evitare ulteriori disagi causati dalla chiusura di via Roma. E' stato siglato tra il Comune di Campobasso, l'Istituto Pilla e il Collegio dei Geometri di Campobasso il protocollo d'intesa per il censimento della segnaletica stradale verticale, un'iniziativa unica per la città e per l'intera regione, ha detto il sindaco Roberto Gravina. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Partirà breve il censimento della segnaletica stradale verticale di Campobasso. La realizzazione sarà possibile grazie al protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Campobasso, l'Istituto Pilla ed il Collegio dei Geometri di Campobasso, una iniziativa che rappresenta un'importante novità per la città ma anche per l'intera regione, ha ricordato il sindaco Gravina nel corso della conferenza stampa organizzata al Comune. Con lui c'erano anche la dirigente scolastica del Pilla, Maria Cristina Battista, il Presidente del Collegio dei Geometri Marco D'Angelo, oltre al Presidente della Commissione Mobilità Walter Andreola e l'assessore competente Simone Cretella. Oggi sigliamo insieme all'Istituto Pilla, Indirizzo Ambiente e Territorio, nonché il Collegio dei Geometri, un protocollo d'intesa che porterà gli studenti, in primis sotto la supervisione dei più grandi colleghi dei geometri, a censire, quindi a fare quel catastro della segnaletica verticale cittadina. Per noi è un adeguamento normativo perché il Comune di Campobasso è ancora inadempiente, perché in realtà la norma prevede che tutta la segnaletica debba essere catalogata e accatastata. Lo faremo, quindi andremo ad associare ad ogni segnale stradale un codice identificativo, una georeferenzazione su mappa da inserire poi in un sistema informatico comunale. Tutto ciò è finito di migliorare anche la possibilità di manutenzione corretta e supervisione dell'intera area cittadina. Per il momento partiamo dal centro murattiano, con la riserva poi di continuare per l'intera città. È importante che in questa fase ci sia la collaborazione, quindi una bella filiera tra l'istituto di formazione, in questo caso il PILA, l'ordine professionale e l'amministrazione. I ragazzi potranno sperimentare sul campo, quindi esercitarsi una vera e propria formazione professionale che potranno in futuro mettere a frutto nelle loro attività professionali. Come è nata questa idea di questa collaborazione? È nata attraverso dei contatti che abbiamo con una parte dell'amministrazione che è inserita all'interno degli ordini professionali, un'idea sviluppata di concerto con l'intera commissione mobilità e che diventa oggi operativa. La capogruppo del Partito Democratico alla Regione Molise, Micaela Fanelli, ha presentato un ordine del giorno che impegna il presidente Donato Tome e l'assessore Vincenzo Niro al ripristino delle fermate autobus nella zona industriale della Val di Sangro. Da più parti, addirittura da operai pendolari residenti in Puglia, si è appreso nel colpevole immobilismo della Regione, spiega alla Fanelli, che alcune società di trasporto pubblico hanno nuovamente soppresso tutte le fermate dei propri autobus nella zona industriale di Atessa, mantenendo solo quella principale dinanzi allo stabilimento Sevel. Una situazione insopportabile, ha concluso Micaela Fanelli, per tutti coloro che non lavorano direttamente alla Sevel. dal 1 gennaio nuovamente costretti a raggiungere le loro fabbriche o a piedi o con i propri mezzi, aggiungendo un ulteriore sborso economico dopo essere stati già vessati dall'ingiustificabile aumento del 40% del costo del biglietto. Voltiamo pagina. È stato presentato a Campobasso il progetto Aspem, che coinvolge donne vittime di abusi sostenute dal Centro Antiviolenza Bifri. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Anna Maria Di Matteo. Dopo la sofferenza, la paura, la sopraffazione, la rinascita e il riscatto, le donne ospitate dal Centro Antiviolenza del Molise hanno deciso di darsi una seconda possibilità offerta dal progetto Aspem, una iniziativa che sta dando risultati particolarmente significativi. Un connubio tra le cooperative Cairos e Bifri di Roma per favorire l'innovazione nei modelli per l'inserimento lavorativo delle donne. Quindi in questo caso cosa fanno di concreto? Nel concreto le donne hanno seguito dei corsi con degli agronomi professionisti sia a livello teorico che sul campo, quindi pratico, presso gli oliveti. E hanno prodotto un olio di qualità eccezionale da capacità con grandi caratteristiche nutraceutiche e l'olio Aspem che hanno imbottigliato ed etichettato. Questa è solo la prima iniziativa, ce ne saranno altre, insomma un progetto che va avanti. È un progetto che noi speriamo di portare avanti naturalmente affidandoci al partenariato del progetto stesso che ha visto il connubio tra gli enti locali, le cooperative sociali e anche i privati del settore olivicolo. Le prospettive per il futuro? Il futuro dunque innanzitutto le utenti del centro antiviolenze a breve diventeranno soci e lavoratrici della cooperativa Cairos perché hanno espresso proprio il desiderio di continuare delle azioni progettuali con noi e questo è uno dei grandi risultati di questo progetto perché il nostro intento era proprio quello di promuovere l'inserimento sociolavorativo. Per cui adesso nel prossimo futuro insieme a loro andremo a proporre sul territorio regionale a tutti i comuni della regione Molise, lì dove ci sono dei uliveti in stato di abbandono andremo a proporre delle convenzioni, dei comodati d'uso gratuito proprio per cercare di implementare questa filiera che è partita con il progetto Aspem. Abbiamo delle previsioni ottimistiche in tal senso perché sappiamo che in regione Molise insistono molti uliveti in stato di abbandono o semiabbandono per cui offriremo sicuramente un servizio che sarà ben accetto da molti proprietari terrieri soprattutto anziani oppure proprietari terrieri che non sono domiciliati nella nostra regione e che rischiano veramente di perdere un grande patrimonio e le nostre utenti del centro antiviolenza credo che abbiano ormai le competenze per poter recuperare questo patrimonio e poterlo valorizzare producendo un olio di ottima qualità. E ora parliamo di scuole in particolare dell'Open Day al convitto Mario Pagano di Campobasso dove sono stati accolti genitori e futuri allievi per far conoscere da vicino un'istituzione educativa tra le più longeve presenti sul territorio molisano. C'era per noi Fabiana Abazia 200 anni di storia e uno sguardo rivolto al futuro è il convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso dove è stata presentata l'offerta formativa un convitto femminile e un convitto maschile a cui sono annessi un istituto comprensivo che comprende la scuola primaria e secondaria di primo grado e liceo scientifico europeo. Innovazione e tecnologia ma anche lo studio delle lingue sin dalla teneretà vanno di pari passo con l'importanza attribuita alle lettere classiche alla musica e all'arte in una scuola che quotidianamente persegue l'obiettivo di promuovere la crescita culturale e sociale relazionale degli allievi preparandoli al meglio per le sfide future. Questa scuola mi ha preparato in generale ma non un poco di tutto ma tanto di tutto perché io ho partecipato a molte molte attività e su diverse tipologie quindi comunque sono migliorato dal punto di vista linguistico con l'inglese perché ho partecipato all'Erasmus allo scambio in Olanda ma anche dal punto di vista problem solving oppure dal punto di vista di creare un gruppo per poter lavorare cosa trovare, delle ricerche da fare come studiare, come gestire anche il tempo quindi diciamo da tutti i punti di vista mi abbiamo preparato e sono pronto per affrontare l'università. Nel corso dell'Open Day i laboratori e visite guidate con gli studenti a fare da protagonisti hanno permesso di conoscere un'istituzione educativa tra le più longeve e prestigiose presenti sul territorio molisano un'istituzione che coniuga passato e presente ma che soprattutto sa guardare al domani. Si tratta di un progetto che ci ha offerto la scuola che è il progetto della didattica innovativa con il quale ci insegnano ad usare i telefoni nel modo corretto per esempio facendo dei test sulla grammatica oppure delle applicazioni come iMotion che ci permettono di animare degli oggetti. Un momento importante è quello relativo alla presentazione dell'offerta formativa per l'istituto diretto da Rossella Gianfagna primo rettore donna di una realtà con alle spalle 200 anni di storia. È bello vedere come le persone siano interessate non soltanto al discorso della scuola ma anche di quello che rappresenta il convitto in questa realtà quindi sono interessati a quella che è l'offerta come semiconvitto e come convitto. Partiamo dalla storia per poi andare verso quella che è l'internazionalizzazione e quindi l'apertura all'Europa senza dimenticare che siamo in un mondo globale e quindi quella che è l'innovazione. Torniamo a Isernia dove è stato presentato il libro curato da Marilena Ferrante dal titolo Dieci poeti, cinque poesie un volume in cui dieci autori selezionati dalla docente di lettere pubblicano cinque poesie a testa un'interessante iniziativa per la riscoperta e la valorizzazione della composizione poetica. C'era per noi Enzo Di Gaetano. Le ho usate le ho prese le ho tenute e sospese le ho viste sfiorire in decine di giustificazioni e le ho guardate morire Dieci poeti per cinque poesie a testa un'interessante iniziativa editoriale per la riscoperta della poesia presentata a Isernia presso la libreria della Corte a cura di Marilena Ferrante docente ma scrittrice poetessa a sua volta è lei che ha curato la raccolta pubblicata per i tipi della Mezzelane di Ancona è un libro corale che racconta la poesia la poesia in tutte le sue forme le sue dimensioni è un'opera appunto corale nella quale i poeti sia locali che non locali si sono insomma prestati a dare la loro voce in questo volume che in realtà poi è all'interno di una collana che è Dieci poeti cinque poesie è il terzo volume questo per i tipi delle Mezzelane case editrice marchigiana della provincia di Ancona i versi dei poeti rappresentano un po' il morso vorace della vita tutto ciò che alimenta le passioni, i sentimenti la mescolanza tra dolore e gioia tra infinito e finito tutto ciò che nella poesia e nei versi si può raccogliere cioè non c'è un vero e proprio filo conduttore il filo conduttore fondamentale è quello proprio della vena poetica perché effettivamente sono delle voci abbastanza rilevanti anche nel panorama letterario italiano e extra regionale riscoprire la poesia i versi, significati nascosti è ancora possibile oggi nella società di internet del web e dei social? io credo di sì perché in effetti noi che facciamo anche un lavoro didattico perché io insegno sono una docente ancora oggi tento in tutti i modi ma tentiamo in tutti i modi di sviluppare l'amore per la lettura e per i versi perché ci si educa anche alla poesia e alla poesia ci si può educare anche nella frammentazione della vita quotidiana delle storie che ci accadono ogni giorno e che possono essere alimentare i nostri pensieri e anche la nostra sensibilità che può diventare poesia tra i suoi studenti ha trovato qualche poeta in erba? nel corso del tempo credo di sì scrittori sicuramente perché ci sono ho trovato alunni che hanno veramente delle belle doti di linguaggio di lessico di fluidità e di creatività in chiusura c'è l'appello un secondo appello per un cagnolino che si è smarrito il primo gennaio a Castro Pignano lo vediamo nella foto è un cane bianco e beige con un collare nero sul collare ci sono dei disegni degli ossetti colorati ha 12 anni ed è provvisto di microchip il proprietario precisa che questo cane non è adatto né alla caccia né alla ricerca del tartufo è anziano deve tornare assolutamente a casa e il proprietario promette anche una ricompensa a chi dovesse ritrovarlo e riportarlo a casa termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte a chi l'ultima